Salve amici, come andiamo? Tutti bene? Casa, lavoro, famiglia, carino mangiato, un cazzino pure. Ok, sono contento. Ehm, cosa volevo dire? Come state? Tutti bene? Vediamo poi che non ci sentiamo. Ho caricato dei video, qualcuno ha preso, qualcuno no, qualcuno mi fa la cancellazione. Ovvio perché sono video RT, quindi sono tutti registrati, quindi mi fanno la cancellazione. Mi dispiace voi che ne vedete e poi non ne vedete più. Come si dice? Non mi ricordo mai quella parola. Come iscritti siamo quasi a mille. Come iscritti siamo quasi a mille, sono contento. Spero che a fine mese saremo veramente mille, sono 911. Oggi è 16 settembre. A ottobre spero che saremo mille, non penso perché questi sono 15 giorni, quindi almeno 950. 950 a fine mese. Mi accontento di 950. 850. Ok, dopo questo. Dovevo dire una cosa? No. Sto sempre indagando su quella cosa lì, quindi... Sto sempre indagando su quella cosa lì, quindi... Allora, il Dago, la gente trema e ma purtroppo il danno l'hanno fa. Danno! Ripeto, non hanno fatto il danno, però voglio capire chi è. Però hanno paura di me, perché io il Dago, il stato, io posso dire che cazzo c'è dentro, che cazzo... e posso essere rinunciato. Sono, anche se hanno fatto del bene, ma sono la parte del tolto. Questo è quello che loro possono dire. Se li scopro, non sono solo detto, ma se li scopro, cosa succede adesso? Non succederà assolutamente niente. Non succederà assolutamente niente. Se invece vengo a sapere di una persona che ha quali... che c'è qualcosa che non mi guarda, perché sono tante cose che vedo che sono un po' storte e voglio vedere se le posso raddrizzare, come si dice, no? E quindi, boh... Questa telecamera qui ce l'ho quasi da cinque anni. E va che bene, va da Dio. Se mi vedete bene, va. Se non mi vedete, non va. No, va bene. E boh. Vedete un po' ragazzi. E siamo qua. L'estate sta finendo. Come un... Un anno se ne va. Come una canzone di Righiera. Righiera. Carola di Torino. Quasi trent'anni fa. Oggi sta finendo. Vabbè, facciamo stare. Quindi vengono le piogge, il freddo, la neve... Vabbè, dai. Vi ho fatto questa mini chiacchierata. Vi vediamo alla prossima. Mi raccomando, fate i bravi. E naturalmente... Buona serata. Ciao.